Siamo in compagnia del dottore Lucio Tambuzzo, ideatore a tutti gli effetti di gestione, soprattutto per Palermo, della direzione artistica alla grande basca dei cantieri culturali che si stanno offrendo alla grande operazione di corposa entità ideata appunto dallo stesso dottore che meglio ci esprimerà i contenuti di questo progetto. IART nasce da questo bando pubblicato dall'assessore dei beni culturali, l'area di intervento 3133. Abbiamo messo insieme tutte le associazioni, tutti i comuni che sono associati ad iWorld, un percorso che ci ha visto progettare insieme raccogliendo istanze e arrivando ad una progettualità che ha visto la strutturazione di 23 centri culturali in altrettanti comuni di Sicilia che sono già stati attrezzati con vetrine espositive, con pannelli, con sistemi di videoproiezione che sono attivissimi, che stanno svolgendo tante attività a livello territoriale. Abbiamo realizzato un grande programma di artisti in residence, ospitando più di 30 artisti in 30 comuni di Sicilia e oggi presentiamo qui ai Cantieri Culturali della Zisa una delle più grandi operazioni di spettacolo che prevede il progetto nell'ambito del festival di IART. Passaggi contemporanei è un progetto del teatro Potlac con la regia di Pino di Buduo, prevede un percorso di circa 700 metri all'interno dei Cantieri Culturali della Zisa. Sono 140 artisti, in contemporanea ci saranno circa 30 rappresentazioni di teatro, danza, musica, artivisive, installazioni, performance, proiezioni di grandi dimensioni ispirate all'identità siciliana. Il grande messaggio è proprio quello che la grande tradizione di Sicilia può anche essere rivista, reinterpretata, resa viva e quindi consegnata alle future generazioni in una maniera che possa realmente appartenere al presente in una dimensione totalmente nuova. Quindi un grande percorso che ci mostreranno i Cantieri Culturali della Zisa come non l'abbiamo mai visti. Quindi in due ore di performance l'itinerario che si svolgerà, lo spettatore che interverrà ai Cantieri Culturali sarà sicuramente più o meno predisposto a determinati spettacoli che altri andando anche oltre. Certamente, si tratta di un viaggio in cui gli spettatori, ovviamente è un percorso orientato, ma gli spettatori sono liberi di fermarsi a vedere una rappresentazione per il tempo che vogliono, di circolare per spendere il tempo che ritengono vedere ognuna delle 30 rappresentazioni che si svolgeranno, ripeto, in contemporanea in tutto questo percorso che accenderà i Cantieri come un unico intero palcoscenico fatto proprio da questi 140 artisti che sono sia quelli del Potlaccio sia realtà locali, in un percorso proprio che sarà 30-31 luglio e primo di agosto. In questi che si identificano come paesaggi contemporanei avremo presente il teatro Potlaccio che sarà sicuramente quello che maggiormente interviene in questa performance. Nello specifico loro che cose esattamente fanno? Hanno creato tutta una serie di mapping, anche un progetto che esalta le architetture del percorso, quindi hanno creato queste grandi installazioni, hanno creato questa dislocazione, se vogliamo, degli artisti lungo il percorso, per ogni rappresentazione, hanno creato l'allestimento, quindi una grande regia di tutto questo. Sono stati selezionati 30 artisti provenienti da più parti d'Europa. Dunque il programma artisti di Resens è andato oltre le nostre aspettative perché abbiamo ricevuto più di mille candidature da tutto il mondo, compresa il Canada, l'Australia, la Russia, per cui abbiamo ricevuto candidature di alto livello, e ne abbiamo dovuto selezionare 30. Questi 30 artisti per un mese sono stati ospitati in 30 comuni siciliani, sono entrati in relazione con le persone di ogni comune, hanno creato delle opere d'arte a volte anche sociali. Che saranno lasciate alla comunità dove hanno operato, alla cittadina dove hanno lavorato, o raccolte in un museo particolare, in una situazione un po' più determinata? Dunque sono opere che rimangono di disponibilità dei comuni ospitanti, laddove si tratta di opere materiali, per esempio opere di street art a Mr. Bianco, piuttosto che una tela fatta da Marco Del Bo a Ferla, ma ci sono anche delle altre opere che sono composizioni musicali, piuttosto che opere di videoarte, che saranno mostrate in un evento ad hoc che realizzeremo a metà settembre. Adesso abbiamo gli ultimi eventi di luglio che si concluderanno proprio con paesaggi contemporanei, ma paesaggi contemporanei continueranno a Sambuca di Sicilia l'8, il 9 e il 10 di agosto, in cui si trasformerà il quartiere Saraceno del comune, ma poi avremo anche tanta altra musica, avremo anche Mario Incudine a Palermo, avremo un altro grande progetto, si tratta di installazioni multimediali, ai Landscape, il 6 di settembre all'Albergo delle Povere, tanto altro teatro ai cantieri della Zisa, allo spazio Tre Navate, anche questa mossa sugli Art Institute Residence, per cui abbiamo anche altri due mesi pieni di eventi, ovviamente tutti gratuiti, ai quali siete tutti invitati. Il maestro Pino Di Budu, che ha ideato e portato avanti la performance che oggi si svolgerà, che sarà in atto, i paesaggi contemporanei. I paesaggi contemporanei, sì. Oggi ancora una prova generale, faremo domani il 30, 31 e 1 agosto, alle 9 di sera, all'entrata dei cantieri a Zisa. È un progetto grande, è un itinerario di più di 600 metri, dentro i cantieri della Zisa. Metro per metro lo trasformeremo, e se venite vedrete la Zisa come i cantieri, come non li avete mai visti. Maestro, tutte le attività multidisciplinari che faranno parte di questi paesaggi contemporanei, che coinvolgerà sicuramente 140 artisti, mi pare che siano, saranno stati tutti curati direttamente da lei, nelle varie situazioni? È un progetto multidisciplinare. Ogni partecipante, ogni nucleo partecipante, l'ho incontrato, conosco il lavoro, parte un dialogo, e da questo dialogo poi entriamo insieme e scegliamo il luogo di rappresentazione, in modo che l'idea di rappresentazione, anche se parte dal repertorio di ognuno, nasca dal luogo. Questa è l'idea, perché dobbiamo fare i conti con quello che già esiste. Con la realtà esistente, effettivamente. Diceva l'assessore che addirittura vi siete conosciuti in India. Sì, ci siamo conosciuti a Trishur, che è in Kerala, dove c'è un grande festival. Per due anni siamo stati invitati nello stesso festival, tra l'altro eravamo invitati anche a Delhi, al festival di Delhi. E quindi lì ci siamo conosciuti. E quando ci siamo rincontrati qua, ci siamo rincontrati come artisti. L'assessore Andera Cusimano ci parla un attimo di questo splendido progetto. Naturalmente in maniera succinta sta per cominciare la conferenza stampa. In maniera molto succinta, rientra all'interno del progetto iArt, che vede coinvolti diversi comuni della regione siciliana. Catania come capofila, ma a Palermo abbiamo portato tantissimi eventi, tra cui appunto questo che presentiamo oggi di Pino di Budo e del Teatro Potlac, che in qualche maniera riprende determinati elementi del lavoro di Pino che sono legati proprio a degli interventi site specific. Quindi quando mi è venuto a parlare di questo progetto abbiamo subito proposto i cantieri culturali alla Zisa, che qui sono stati completamente rivisitati e interamente reinterpretati sostanzialmente. che si tratterà di un percorso che in qualche maniera attraverserà tutti gli spazi dei cantieri, sia dentro che fuori, con questa nuova reinterpretazione. Quindi con la multidisciplinarità delle arti? Multidisciplinarità, sì. Ci sono proiezioni, i ragazzi dell'Accademia sono stati coinvolti, questa è una cosa a cui teniamo molto, perché questo è uno spazio appunto sinergico che vede diverse istituzioni. Speriamo che ne vengano sempre di più, ci stiamo lavorando e l'idea appunto è quella di mettere sempre più in circolo la sinergia tra le istituzioni presenti. Quindi in questo caso i ragazzi dell'Accademia sono stati coinvolti in un numero sostenuto, oltre a tutti gli artisti portati dalla compagnia, che riempiranno sostanzialmente questo spazio in queste tre giornate con un evento che sarà sicuramente una grande sorpresa. Diceva il direttore che se non fosse stato per il suo interesse, per la sua capacità di poter eventualmente sposare l'idea, questo non si sarebbe potuto realizzare. Si è realizzato. Grazie Assessore. Si sta ancora svolgendo la conferenza stampa della e-art, dove vedono impegnati al tavolo l'Assessore Cusimano di Budio e anche il Tamburo. Comunque siamo qui esterno, in esterno con la vela, una delle installazioni che sarà lungo tutto il percorso dei 600 metri che avverrà il cantieri culturale durante la manifestazione Paesaggi Contemporanei. Vogliamo assolutamente dire che sarà molto molto importante questa manifestazione perché rappresenterà un'officina, un'officina culturale, dove l'arte è come identità vita, rivelatrice dell'invisibile, unità e diversità. Le residenze d'artista sono quelle che più ci incoraggiano a immaginare la possibilità di pensare che la Sicilia potrà trovare sicuramente e beneficiare di grandi, grandi momenti di turismo e di attenzione da parte del pubblico internazionale. Grazie.